di nuovo al volo allo stand mercedes dopo la project one che è sicuramente un'automobile che spacca c'è una concept che mi piace tantissimo la e q-a è all'avanguardia di tutta una serie di modelli a emissioni zero che la casa con la stella vuole mettere in vendita addirittura pensate che saranno 10 da qui al 2022 e guardate che non manca tanto questa è una compatta un po più di 4 metri di lunghezza e fatta con una coupe a tre porte quindi molto bassa è anche molto sportiva direi e parterà al segmento comunque della mercedes classe a però essendo una full electric avrà una disposizione meccanica particolare perché le batterie come sapete occupano parecchio posto sono anche piuttosto pesanti quindi il design lo lascio giudicare a voi ma a me piace moltissimo e con questa spalla larga dietro così potente prestante ha anche l'aria di essere un'automobile molto scattante ci sono dentro due motori elettrici e 270 cavalli